È giusto avere l'ambizione massima, è giusto avere l'ambizione e il sogno di arrivarci immediatamente e di lavorare per questo. Poi, normale che è differente da quello che poi è il percorso, perché poi nessuno qui vuole accontentarsi e nessuno di noi si accontenta, quindi noi vogliamo essere ambiziosi, vogliamo crescere, poi, ripeto, il campionato ci dirà dove potremo arrivare, cosa potremo fare, gli obiettivi si costruiscono a stare facendo. Quindi non è un'affermazione del tutto distante dalla realtà, insomma, ma quantomeno lei pensa come possa essere in quel gruppo che può ambire la promozione. Nei pensieri ci deve essere l'ambizione di voler vincere, assolutamente, anche prima del previsto, perché, anzi, noi dobbiamo lavorare per fare il massimo, dobbiamo lavorare per cercare di vincere, come ho detto prima, ogni partita. Poi quando dico che gli obiettivi si costruiscono in campo è perché l'anno scorso l'obiettivo era il play-off e la squadra ha rischiato di retrocedere, quindi quello che dico io è il fatto di dire sogniamo, lavoriamo per centrare i nostri sogni, dobbiamo avere ambizione tutti e dobbiamo tutti credere di poterci arrivare. Poi il campionato ci dovrà dare delle risposte strada facendoci, indirizzandoci verso quello che è l'obiettivo che la squadra poi dopo tramunterà sul campo. Grazie mille.